Sindaco, ieri una giornata importante, quale novità sono emerse? Ieri abbiamo avuto un momento di grande positività per questa città. Innanzitutto è stata messa sul binario quest'altra iniziativa forte che è l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche che è l'equivalente contemporaneo dell'Accademia delle Belle Arti. Abbiamo parlato con il direttore Massimiliano Dotti per un'ora a fine mese sarà Matera e questa struttura che parte dal disegno tecnologico e dal design meccanico vuole invece aprire il discorso a un sistema organico sul mezzogiorno e quindi lui ritiene che Matera debba essere il vertice di un irraggiamento di questa iniziativa di formazione e di creatività culturale per l'intero mezzogiorno e questo fa sponda con il centro sperimentale di cinematografia con la scuola di restauro, con le residenze artistiche, cioè il ruolo forte della città. In giunta poi abbiamo varato due provvedimenti particolarmente importanti. Il primo è l'assunzione di 27 unità di lavoro nel Comune che erano stati praticamente licenziati il 31 marzo scorso. Grazie a un'operazione concertata il Parlamento italiano ha ammesso un emendamento che ci consente di poter occupare queste persone fino al 31 dicembre 2020. E questa è un'altra forza e energia organica nel Comune che ci darà garanzia. E poi abbiamo approvato il grande progetto dei luoghi del silenzio per 2 milioni e mezzo. I luoghi del silenzio saranno un altro attrattore, io lo chiamo un altro marcatore turistico, cioè un luogo straordinario per quel turismo di scelta, quel turismo esperienziale di cui oggi si ha tanta ricerca e tanto bisogno. E sul turismo io devo dire che Matera vive adesso di nuovo una euforia turistica. Non è un turismo di prossimità come si sosteneva, ma è un turismo d'Italia. Piazza Sedile è piena di comitive di Imola, di Ascol Piceno, di Ferrara, di Vicenza l'altro giorno, di Pordenone, di Torino, che vengono a Matera. Quello che non avviene in altri luoghi turistici italiani. Allora a questo punto c'è una riflessione. Noi dobbiamo rafforzare l'organizzazione turistica della città. E io che devo abbandonare il campo ritengo che chi possa meglio di altri affrontare questo tema è una persona competente nel campo del turismo. E io ho apprezzato una segnalazione, un comunicato degli operatori turistici materani che hanno segnalato alla città e quindi al governo e all'attuale sindaco uscente chi può essere il suo sostituto. Lo hanno detto in maniera molto chiara. Deve essere un imprenditore, una persona che ha competenza e possibilmente essere una donna. Perché oggi come oggi credo che la capacità, la grinta, la capacità delle donne vada finalmente premiata. Quindi abbiamo l'identikit. Qual è il profilo che lei immagina? Noi ne abbiamo uno in giunta che non ha bisogno di essere commentata cioè l'assessore al turismo attuale che è Marianna Di Mona che fra altre cose al di là della sua capacità e della sua giovinezza e della sua grinta è un'erede discendente di Domenico Ridola quindi è una materana doc ma al di là di questo è una persona che è entrata in questa filosofia di futuro tanto è entrata che lei ha ordinato in maniera convinta un'indagine e una ricerca puntuale, economico, sociale sulla città che sarà presentata a giorni in cui si traccia tutto quello che è avvenuto sotto un profilo economico nel 2019, la pausa del Covid-19 e le proiezioni del futuro affidata a una struttura di ricerca del Banca Intesa San Paolo quindi questo ci dice che lei è entrata nella visione di una programmazione di una capacità di avere un futuro non di chiacchiere ma di numeri e di proposte, di progetti e di priorità ecco che io ritengo che questa possa essere questa nostra assessore che io ovviamente segnalerò perché ovviamente io non posso abbandonare il campo io preparerò una lista nella quale io farò il semplice soldato di consigliere comunale e in questa lista noi indicheremo questa persona come nostro riferimento politico e credo che la città premerà finalmente un sindaco donna